Non c'è Calori nella San Giovannese in trasferta a Castiglione della Valle nel 4-2-3-1, quindi Jacobelli inserisce Regoli titolare con Nannini che scala al centro della difesa, Bindi va a fare l'esterno basso. Per il resto ci sono conferme, dopo sei minuti il centroavanti Umbro, Brunori, prende la mira da lontano per esplodere un destro potente che incoccia all'incrocio dei pali. Due giri di lancette, lancio per Regoli che anticipa anche l'uscita del portiere Vitale fuori area a centro della stessa, Canji rischia l'autorete per liberare. Metà frazione, cross di Rondoni, Francioni anticipa Nannini, conclude sul fondo. Quindi Jukic dal limite in equilibrio non perfetto, prova a rasoterra a girare, sfiora Vitali per il corner, poi senza esito. Si supera la mezz'ora, grandi proteste in casa Rosso Blu con Brunori giù in area di rigore azzurra. Per il direttore di gara si prosegue, è un forcing discreto dei padroni di casa, ancora un traversone su cui Scarpelli respinge corto, irrompe Rondoni che di controbalzo calcia però la traversa. Ripresa con stessi 22 in campo, ecco l'assist di Keki per Jukic, colpo da biliardo dell'attaccante che a portiere battuto si stampa sul palo, rientra in campo, prima sliding door anche perché a sbloccare lo 0-0. Ecco la punizione dal limite di Brunori, foglia morta sopra la barriera che tocca terra gonfiando la rete per il vantaggio Umbro. La nuova svolta arriva a tre quarti di gara, bordo da fuori, trova lo specchio con respinta di Vitali, da parte opposta invece Brunori in contropiede, si procura il rigore sul contrasto dubbio con Kouadio. Indicato il dischetto, lo stesso centro avanti, trasforma per doppietta e 2-0. Tanti spazi adesso nella retroguardia azzurra, la ripartenza dei padroni di casa è interessante, diagonale di Brunori che incoccia proprio il legno con scarpelli ormai arresosi. Abbiamo dunque al finale, percussione di Keki per Jukic, destro a girare, nuovamente alto. Prima della segnalazione del recupero, Jukic sfrutta quindi il corner di Keki per indirizzare di testa l'angolino, l'1-2, riaprendo di fatto tutto per il finale. Ma i cinque minuti di recupero non portano altro. Un punto nelle ultime quattro partite per la Sangio, se non è crisi, di certo è ridimensionamento.